Eccoci qua con i nostri amici che stanno facendo il riscaldamento, ciao Nino, sei pronto a fare il cameraman? Caldissimo, prontissimo e operativo, ciao! Bravo, intanto il riscaldamento per i nostri amici del reality, vi vediamo tutti ben volonterosi, poi affideremo la nostra telecamera a Nino che seguirà i suoi amici. Ti vedo perplesso, com'è? Divertito per il perplesso, ma ce l'hai mai fatto? Ce l'ha mai trovata? Fa parte del reality, autogestione totale. Bene, intanto qui vedete il villaggio, siamo alla fiera di Padova, vedete Filippo, vedete tutti i nostri amici, sono pronti. Ciao Ruvo, ciao ragazzi, ciao Mauro, vedete alla fiera di Padova, stanno schierando tutti i nostri amici e fra poco partiremo con le immagini di Nino che seguirà gli amici del reality nella loro camminata, nel percorso previsto da Venturini, dalle Fiamme Oro e dalla Polizia di Stato attorno alla fiera di Padova. Buonasera a tutti, questa sera avete visto la location un po' particolare, la fiera, faremo una piccola passerella dentro la fiera, vi raccomando di andare tranquilli perché magari molti visitatori non sanno della Corri per Padova. Dopodiché usciremo, sarà uno dei classici percorsi, c'è l'attraversamento del Parco d'Europa, per darvi un'idea ai giardini, quelli della Stanga, è bagnato, ovviamente è piovuto molto. Se cercate di stare sui passeggi, sulle passeggiate in cemento, ovviamente non vi baglierete, altrimenti c'è un po' di acqua. Dopodiché siamo sugli argini, c'è un po' di erba a destra e a sinistra, non è stata tagliata, quindi sembra più stretto di quello che è, ma comunque si riesce a correre molto bene. Per fortuna non c'è acqua sugli argini e quindi sono abbastanza asciutti. Solita raccomandazione, rispettiamo i ritmi dei peacemaker, buon divertimento e buona corsa. Ciao Paolo, Paolo, mi dici una cosa di questa importante manifestazione? Sì, allora per sensibilizzare un po' quello che sta succedendo in questi giorni, le problematiche dei femminicidi eccetera, a Milano, venerdì prossimo, 31 maggio, c'è una corsa dedicata alle donne, una 10 km non competitiva, mi dicono essere molto sentita dai milanesi. La partenza è alle 20 da Largo Cainoli e chiedendo informazioni magari qui al punto speaker, ci saranno dei pullman che partiranno e da Padova e da Vicenza per andare a partecipare appunto a questa corsa Beyond the Night organizzata da Nike Italia. Grazie. Bene, vi ricordo anche la nostra Pink Run, è sabato 18 maggio a Maserà, con gli amici di Maserà. Allora siamo pronti, colpo di sirena, Andrea siamo pronti. Katiuscia, Katiuscia, ciao Katiuscia come va? Ciao, abbiamo ben iniziato. Ecco, vi ricordo agli amici di Corri per Padova che oggi è giovedì 16 maggio, siamo in fiera, io sto seguendo da realitino Katiuscia. Dimmi Katiuscia come sono venuti fuori, questa grande idea di riprendervi mentre faticate. Riprendersi dal nostro capo, dal nostro supervisore Nino, è un'idea di Dario. Bene, magari non è Dario, è un vulcano. Bene, buona serata, adesso vado a raggiungere gli altri, ciao. Che sono qua davanti. Ehi, tu, dico a te come va la serata. Ciao Nino, bene, cominciò a piodi più generale. Sono i primi 100 metri. Siamo ancora dentro in ferie, ricordiamo gli amici. Siamo dentro in fiera, stiamo percorrendo il viale principale. E dopo la corsa cosa si farà, giusto per essere sempre in tema? Si va a casa e si beve una tisana. Che brava che sei, buona serata è una cosa. La cimbre. Ecco qua amici. Adesso raggiungo Marco, il secondo maschetto del gruppo. Ciao Marco, come va? Sono bene, sono più stanco, però siamo appena fatti. Giusto per rimanere in tema, pioderà stasera Marco. Secondo me sta già incominciando, quindi vai che la becchiamo. Ma gira voce che dopo la corsa ci si vedrà dove per... Penso a mangiare un pochettino di costicine, robetta ai ferri, così potrebbe andare bene. Ho capito, quindi saremo velocissimi stasera. Ciao, buona cosa, ci vediamo. Vado da Martina, Martina. Martina, non fa finta di niente. Come va Martina? Bene, grazie. Come dice il ginocchio? Eh, le ginocchia si lamentano ogni tanto. Sto cercando di mettere in pratica i consigli che mi ha dato Luca. va un pochino meglio, un pochino alla volta si migliora. Ma è vero che se si è andato per la corsa si va a mangiare da qualche parte. Si narra così. Allora, buona cosa. Grazie, ciao Nino. Non dare retta le ginocchia, ciao. Grazie, ciao. Piera, ciao Piena, Piena, con tu. Ciao Nino. Te la spassi vedo, eh. Eh sì, guarda, a fianco di Filippo. E' il carisma di Filippo. Cammina, cammina, fai vedere che cammina. Ok. Io rallento. No, no, tu vai, vai, che noi dobbiamo cominciare a correre. Brechiamo sta cosa qua. Ma secondo me pioverà ancora stasera. No, no, basta, per stasera basta. Siamo a farti il top. Ma è vero che dopo ci si ferma più a mangiare il top? No, è vero che ci si ferma assolutamente. Ma non a bere la tisana, come diceva la nostra amica Elisa. Ai ai ai, l'ora che si fa. È vero, la tisana, il crozzo, il brulè. L'ora ci sentiamo fra poco cammin facendo. Ciao. E a te e Nino che intervista? Mi. Ciao Angela. Ciao. Com'è? Eh, sto cercando di correre per arrivare prima della pioggia. Ma vedo che siamo tutti uniti stasera. E tutti vicini al nostro carisma carismatico Filippo. Eh, certo, sempre. Ma gli hai in novità di darci dell'ultima settimana, Angela? Dei tanti zippe. Perché? Perché ho tanti amici. E perché sei anche come un grillo, sempre ti scatenghi, pronta e ci devi sciolta. Sempre pronta, sempre scattante. Penso che non riesco a star figliato da telecamera, un fiatone. Corri, corri. Ciao, ci vediamo dopo. Adesso vado da lì, c'è. Io, non sbagliare. Guarda che ecco io, perché sono dei doni. Ciao, lì, c'è. E allora, cosa si dice del party sotto il cappello rosa? Tutto bene, tutto bene. Speriamo che non piova e non vediamo loro di andare a mangiare tutti insieme. E anche io, siete tutti monotematici stasera. Eh, stasera è il profumino quello. Allora c'è gente che protesta. Eh, beh, ma la stampa bisogna anche un po' di precedenza. No, diciamo, il nostro obiettivo di stasera è questo. Stare insieme e andare il prima possibile a mangiare. Va bene, ci si vede dopo. Eccoci qua cari ragazzi, ho salutato i rialettini. Ho già il fiatone, evidentemente non mi sto per niente concentrando. Cerco di essere in scia il nostro Super Filippo. E ci aggiorniamo fra qualche minuto perché... Su via, bisogna anche fare un po' quelle cose serie oltre al PR dietro la telecamera. Ciao, ma dopo. Ecco, ho raggiunto finalmente i desideri. Desirei, hai fatto una domanda che è molto di moda oggi nell'intervista. Desirei, hai fatto una domanda e rispondi. Inerente naturalmente lei riempi da qualcosa di robato. Dimmi tu quello di... Ti stai divertendo? Sì. Sono stato incaricato di questo ingrato e goliardico compito. No. La domanda, mi hai detto, fatti una domanda. Ti stai divertendo? Mi sto divertendo io. Sì, mi sto divertendo molto. Bene, bene. Con tutti i nostri colleghi, con tutti i nostri amici qua da reality. La scorsa settimana abbiamo finito in bellezza a casa di Cattiusci a mangiare la soppressa. E invece adesso siamo in fiera, quindi quella è la migliore occasione. Abbiamo di tutto, possiamo scegliere tra fritti e costicine. Abbiamo proprio l'imbarazzo della scelta. Desirei, hai già scelto Nino. Hai già scelto? Hai già scelto Nino. Allora, questa è la tua domanda. Adesso dovremmo faremo le gambe per correre, dopo metteremo le gambe sotto la polla. Sì, bravissimo. Sì, è pingallese. Esatto. Bene, desideri, ci vediamo dopo. Ciao, ciao. Ciao, Nino. Ciao. Ciao a Rio, Beppe. Dimmi tutto. Allora, vedo che stai correndo anche tu, come tutti gli altri. Più o meno sì, ma sto facendo finta stasera per gli altri incarichi. Allora, volevamo chiederti, abbiamo notato che sei stato tanto cliccato su YouTube, ma sono tutte donne, oppure hai la conoscenza. Non ho capito la domanda, non ho capito la domanda, scusate, ripetela lenta, slowly please. Abbiamo visto che sei stato tanto cliccato su YouTube, la tua intervista è stata tanto cliccata. Ho l'auricolare stasera che sono ritorno in cuffia. Non ho capito, pronto? Pronto? E allora cosa ci racconti? Cosa ci vuoi dire? Questa sera non piove, è venuto giù di tutto oggi, siamo in pochi, ahimè, però noi ci siamo nel gruppetto dei reality. Speriamo la nostra preparazione, come vedete siamo dei grilli. E niente, vi aspettiamo numerosi. Povero Luca, quando ti vedrà? Ci aggiorniamo dopo. Quando ti vedrà fare con gli esercizi? Buona serata. Ciao. No, non stai riprendendo. Nucci. Non ci spaventano due gocce, ormai. Neanche due gocce? No, neanche due gocce. Siamo venuti con la neve, con una pioggia battente. Perché spaventarci da un po' di vento? Mai paura, mai paura, brava ragazza. Voi siete, sì che siete grandi. Sì, 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 sono grandi, effettivamente. Ciao, dopo. Sto riprendendo il nostro, il nostro caro Filippo che sta facendo la mandatura. Vedete che si fa il palloncino. Sì, sì. No, non ho capito. Ecco, cari amici, un aggiornamento della serata del 16 di maggio. una realitina ha staccato vistosamente il gruppo vi faccio vedere le distanze questa è la dimostrazione oggettiva che la preparazione dei tecnici del forum dà i suoi risultati vedete sta prendendo proprio il largo mi è vicino per vedere mi sembra che Martina Martina sta prendendo il largo veramente sta facendo corsa a sé questi sono i risultati sicuramente e sono anche contenti ciao eccoci qua raggruppati il nostro Filippo fa l'andatura si sta ritornando è sempre un simpaticone bravo Filippo vediamo gli altri cosa lo fanno come vedete sono tutti senza fiato luccicano dal sudore e mi informo che tanto da cambiare sta iniziando più o meno ciao dopo ecco amici siamo entrati in fiera siamo all'attività dell'evento si sente daio sottofondo raggiungo gli amici che mi dà anche la sigla eccola 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 no dove andate ragazzi dove state andando fermi è finita qua se volete fare il giro della fiera potete fare il giro e poi rientrare ma se no è finita qua ma tiene così forma che è andata oltre per oltre bravi abbiamo anche i nostri vici del reale l'abbiamo fatta Nino stai facendo le riprese sì te sento ma non te vedo Dario ma te cerco eccolo Dario allora come è andata Nino è andata bene tutti disponibili ha tenuto pochino sei stato grande su e scusate Nino ma saranno i altri camminatori i camminatori da brava ciao caro ciao grazie Anino che ci ha fatto da cameraman sotto i due archi rosso e vi aspettiamo all'arco blu della LIC Aliper attenzione non rimanete davanti all'arco blu per favore signori postarci grazie Adriana ecco di ultima curva per i partecipanti all'arrivo bravi abbiamo Francesco che vi fa le foto alzate le mani salutate a riprendere vediamo se arriva un momento aerobico che dobbiamo fondare coro e tendervi tendervi e riprendervi e riprendervi e fiatone un super allenato come te nuotatore adesso è emozionato è difficile bere ridere sbocconare aria e vedere in giro le sceglie e dire cose e dire cose e dire cose tipicamente e ci sono dovuto anche l'ordine di ridere sempre l'ordine di ridere sempre e dire cose sensate se arrivano altri male in gallo male in gallo dov'è il gallo dov'è il gallo vediamo qualche palloncino in vista bravo 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 dai per lo meno bravo perché non sei caduto riprendendo grazie se non altro allora l'arrivo della Corri per Pado abbiamo visto l'immaggio è stata una bella corsa poi riesco a leggere il numero la 1.26 ci hanno confermato Nino è il nostro parco una marcia allora di parco in parco ricordatevela va bene così ragazzi vedete che siamo tutti senza fiato ma adesso ci scateniamo andiamo a mettere i piedi sotto la torre possiamo dire dove si andiamo andiamo a mangiare anche se non è puntisticamente si salga guardate il sorriso di mattina ha preso il volo qui sera veramente allenando allenando la grande hai visto grazie grande l'ubra vaga il capo gruppo grande l'ubra però